Una sedia vuota. Una sedia vuota può voler dire molte cose, può dire che manca qualcuno o che quel posto magari è occupato se qualcuno ha lasciato un cappotto, un giornale, un cappello. Una sedia vuota però il più delle volte ha un solo significato, l'assenza. E quella sedia vuota nel Banco degli Imputati a Norimberga il 18 ottobre 1945 indica una sola persona, indica Martin Bormann, il grande assente del processo ai più gravi crimini contro l'umanità e anche crimini di guerra commessi nel conflitto mondiale. E' concluso da pochissime settimane. Ma chi è Martin Bormann? Perché Martin Bormann deve essere alla sbarra a Norimberga? E soprattutto che fine ha fatto Martin Bormann? Perché non è a fianco degli altri gerarchi a rispondere di ciò che è avvenuto? Martin Bormann viene giudicato come la eminenza nera, se non grigia, del regime nazista. E' l'uomo che ha preso il posto di Rudolf Hess dopo che il delfino di Hitler è volato in Scozia per proporre un assurdo piano di pace nel 1941. E' l'uomo che secondo molti nelle segrete stanze del regime ha ereditato il ruolo di consigliori dello stesso dittatore del defunto Reinhard Dijk, il macellaio di Praga ucciso nella tarda primavera del 1942. E' insomma l'uomo nero, è l'uomo dietro cui si cela la strategia, la strategia omicida, stragista del regime nazista, è l'uomo che ha firmato alcune delle peggiori direttive del regime ed è anche l'uomo che tutti cercano perché si teme che possa aver organizzato lui le vie di fuga e che vengono sfruttate da tanti assenti nei processi minori. Ma dov'è Martin Bormann? L'ultima volta che il Reichsiter, questo è il suo titolo, praticamente il governatore del Reich, è stato visto a Berlino. Stava uscendo dal Führerbunker, il bunker fatto costruire Adolf Hitler nel cortile della cancelleria del Reich, nella notte fra l'1 e il 2 maggio del 1945. Hitler è morto da poco, si è suicidato assieme alla sua amante Eva Braun, si sta uccidendo anche Joseph Goebbels, il ministro della propaganda del Reich assieme a tutta la sua famiglia, ma qualcuno cerca di scappare da quella che è una trappola mortale. D'altronde in quelle ore Berlino è presa d'assalto dall'armata rossa, è stretta in una morsa mortale da cui non si può assolutamente uscire. Eppure c'è chi ci prova ugualmente. Uno di questi è proprio Martin Bormann, che viene visto uscire dal bunker non da solo, ma in compagnia di un medico, il medico delle SS, Ludwig Stumpfeger. E con lui c'è anche il capo della gioventù italiana, la Hitlerjugend, Arthur Axmann. Sono in tre, quindi a uscire di soppiatto dal bunker sfruttano una delle uscite secondarie e ad avvinturarsi nelle pericolosissime strade di Berlino dove si sta combattendo, perché non dimentichiamolo, non c'è solo l'armata rossa nelle strade, c'è il Volkssturm, cioè la milizia popolare, i giovanissimi della gioventù italiana e i vecchi ieri chiamati in servizio, ci sono le Waffen SS, c'è la divisione Charlemagne, i volontari valloni di Léon de Grel. E proprio un vallone, un legionario della legione vallonia, pare che sia l'ultimo a vedere in vita Martin Bormann. Lo dirà dopo un po' di tempo, dirà di aver visto un cararmato tigre cercare la battaglia contro i russi. Dietro questo cararmato si stava rifugiando una piccola colonna di soldati, ma anche di gerarchi, tra questi Martin Bormann. A un certo punto un proiettile di artiglieria sovietica c'entra in pieno il tigre che esplode e una scheggia colpisce alla gola Bormann facendolo morire all'istante perché gli recide la giugurale. Ma è così, non ci sono prove, il cadavere non li è trovato. Non è l'unico, questo volontario, tale François Barassé de La Nulière, a dire appunto che Bormann sarebbe morto nella battaglia di Berneco. C'è anche l'autista di Hitler, Eric Kempka, l'uomo che si trovava all'uscita del Führerbunker e che ha visto fuggire Bormann e gli altri due, a testimoniare una situazione simile. Dice che Bormann sarebbe rimasto ucciso accidentalmente nello scoppio sempre di un cararmato colpito dai russi. Ma manca sempre il cadavere. In assenza di certezze, i giudici alleati a Norimberga decidono comunque di processare Martin Bormann. Lo processano assieme a tutti gli altri gerarchi, quindi a Göring, a Ernst Kantenbrunner che ha preso il posto di Heydrich come capo del Reich Sicherheitshauptamt, l'altro ufficio per la sicurezza del Reich, cioè la vera anima della macchina repressiva dell'SS. E con loro tanti altri, perché c'è Walter Funk, c'è l'ammiraglio Reder, c'è Karl Dönit, l'ultimo capo di stato del Reich. Ce ne sono tanti. Bormann è uno di quelli condannati a morte, ma è l'unico condannato in pontumacia, perché appunto non si sa dove si è. Göring riesce a sfuggire al protoneo dell'esecuzione suicidandosi la sera prima con una capsula di cianuro, c'è chi dice passata gli dall'amante, c'è chi dice ottenuta tramite una guardia compiacente, c'è chi dice celata da qualche parte del suo corpo, siccome non era stato adeguatamente perquisito. Bel mistero anche quello. Ci sono tre condanne all'ergastolo, uno di questi è Rudolf Hess, rimpatriato dall'Inghilterra, sarà l'ultimo a morire, anche lui si dice per suicidio, ma in avanzata età, se pensiamo che morirà nella seconda metà degli anni Ottanta nel carcere portetta di Spandau. Però di Bormann per tanto, tanto, tanto tempo non se ne sa assolutamente niente e non è l'unico assente, almeno tra i colpevoli. Certo, a Nuremberg alla sbarra, al tavolo degli imputati, la sua sedia vuota risalta. Manca anche un altro grande colpevole. Manca Heinrich Müller, il capo del Gestapo, il quarto ufficio del Reichelsichreiter VIII. È sparito anche lui, sempre nelle tumultuose ore finali del Reich, di quello che viene definito un po' con un senso un po' wagneriano, musica che tanto piaceva Hitler, il Göterdemmerung, cioè il trepuscolo degli dei. In quelle ore convulse sparisce anche Müller e anche di lui non si saprà più nulla per tanti tanti anni. Di Martin Bormann dopo un po' cominciano a fiorire tante leggende. Si dice che sia sempre stata una spia dei russi e che i russi se lo siano ripreso, l'abbiamo portato a Mosca e lì si è morto d'infarto negli anni 50. C'è chi dice che si è migrato in Sud America assieme a tanti altri criminali di guerra. Ne citiamo alcuni, Adolf Eichmann, Josef Mengele, Edward Rochman. Sono veramente tanti quelli che scappano. C'è chi dice che si è andato in Spagna assieme a Otto Scozeny. C'è chi dice che si è stato reclutato dagli americani nel corso dell'operazione Paperclip, l'espiltrazione delle migliori menti dell'ex Terzo Reich, tra cui Werner von Braun, il padre della missilistica. Bel mistero. Non se ne sa più nulla per tanti anni. Fino però al ritrovamento, dopo parecchi anni, di alcuni scheletri a Berlino, durante gli scavi. Nel 1963 un impiegato delle poste in pensione, di nome Albert Krumnov, parla con la polizia di Berlino Est. Dice che l'8 maggio, quindi qualche giorno dopo la sparizione di Bohm, l'8 maggio del 1945, i sovietici hanno ordinato a lui, che all'epoca era un membro della gioventù italiana e ad alcuni suoi commilitoni, di seppellire alcuni cadaveri trovati per la strada nel corso della battaglia per Berlino. Uno di questi cadaveri, ritrovato vicino a un ponte ferroviario, pare sia quello dell'ex medico delle SS, l'uomo che viaggiava in compartenenza di Borla. Vero? Falso? Bella domanda. La nostra storia fa un balzo in avanti. Arriva il 7 dicembre del 1972, quando gli operai edili di Berlino Ovest, che stanno scavando per migliorare un tratto della metropolitana, trovano dei resti umani, vicino alla stazione di Lerter. A pochissimi metri dal posto in cui Krumnov aveva detto di aver seppellito assieme a dei suoi commilitoni quei due cadaveri. Questi resti umani vengono analizzati. Si scopre che effettivamente uno dei due corpi presenta una lussazione a una spalla, come aveva riportato anni prima Borman di una caduta da cavallo, una circostanza confermata dai suoi figli. E anche la scheda dentistica è molto molto somigliante a quella di Borman. Però ancora non esistono i test del DNA. Nel frattempo continuano a fiorire leggende. Una che circola abbastanza nell'ambiente anche dei cosiddetti cacciatori di nazisti è che Borman in realtà se ne stia beato e tranquillo in Argentina, dove ha fatto fortuna, assieme ad altri gerarchi, o che sia stato portato in Paraguay protetto dal dittatore Alfredo Stroessner, dittatore tra l'altro di origine appunto tedesca. E come lui anche Josef Mengele abbia potuto godere di un periodo di ospitalità presso il dittatore paraguayano. Se ne sentono un po' di tutti i colori. A sgombrare il campo dei dubbi arriva nel 1998 l'esame del DNA su quei resti umani ritrovati nel dicembre del 72. Ebbene il DNA non dà nessun dubbio. Il DNA conferma quei resti umani. Sono proprio di Martin Borman. Il cardinale nero del regime nazista è morto, come aveva detto Kempka, come aveva detto quel soldato vallone, è morto nella notte fra il primo maggio e il 2 maggio del 1945. Molto probabilmente con una ferita fatale alla gola che gli ha reciso la giugurale. Resta però un piccolo mistero sul suo conto. Perché il terriccio su cui vengono trovate le ossa di Borman è un terriccio che non appartiene esattamente al terreno tedesco, ma ha un pH diverso, una composizione diversa. E questo dà adito ad altri sospetti. Perché è un terriccio che si può trovare sia nella Russia centrale che in Sud America. E allora ci si comincia a domandare. E se Borman fosse veramente scappato, fosse morto in seguito e poi i suoi resti fossero stati riportati a Berlino? Certo, è una teoria abbastanza suggestiva, non ne abbiamo nessuna prova. Però il sospetto resta. Così come restano grossi sospetti sulla fine effettiva di Heinrich Müller, un altro uomo di cui non si sa più niente. Inizialmente non viene cercato dagli alleati perché non si ha l'esatta proporzione dei suoi crimini. Viene interrogata la sua amante, vengono fatte alcune perquisizioni, ma anche Heinrich Müller sparisce nel nulla. La leggenda vuole che lui sì riesca a raggiungere o la Spagna, franchista, che in quegli anni è uno dei porti franchi per i criminali nazisti in fuga, o che riesca a raggiungere anche lui l'Argentina di Juan Domingo Perón, che ha dato parecchi passaporti in bianco per far migrare i criminali di guerra, i criminali contro l'umanità. Si dice che Heinrich Müller sia diventato il capo dell'Odessa, la fantomatica organizzazione che assiste gli ex membri dell'SAS in fuga. Si dice che abbia fatto fortuna come industriale, che abbia cambiato nome, se ne dico un po' di tutti i colori. Non è l'unico. Per lungo tempo, finché non se ne ha prova certa della propria morte, si dice che anche un altro alto papavero del regime, come il generale Richard Glücks, sia scappato all'estero e abbia fatto fortuna come industriale in Sud America. Poi si scoprirà che erano tutte illazioni. Ma resta il mistero su Müller e resta qualche interrogativo su Borman. Se Martin Borman è morto a Berlino nella notte tra il primo e il 2 maggio 1945, come mai ci è voluto così tanto per ritrovare i suoi resti. E perché i suoi resti sono avvolti in quel terriccio teoricamente alieno rispetto al suolo di Berlino? E Müller, che fine ha fatto? È morto anche lui? Se è morto, dove sono i suoi resti? A un certo punto si è anche detto che Müller sì, sarebbe morto e le sue ossa sarebbero finite in una fossa comune di un cimitero ebraico, ovviamente destando un grande sdegno, perché non è ammissibile che un massacratore finisca in una fossa assieme alle sue vittime. Non lo merita, lo possiamo dire a livello morale. Ma è tutto da provare, non sono mai stati trovati i resti mortali di Heinrich Luther. La caccia ai nazisti, lanciata da fine anni 40 fino a metà anni 60 dall'associazione di Simon Wiesenthal, da vari indicatori privati, anche da Israele, pensiamo al rapimento in Argentina di Adolf Eichmann e alla sua traduzione processo in piccagione a Gerusalemme, aprono una nuova fase di ricerca dei criminali. Se ne troveranno tantissimi, alcuni addirittura neanche con un nome falso. È il caso di Bruno Streichepack, l'ex capo del personale dell'SS che vive tranquillamente a D'Hamburgo facendo il direttore di un grande magazzino. Solo a inizio anni 70 si scoprirà che appunto quell'omaccione gioviale è in realtà una delle peggiori personalità dell'ex criminalista. Come lui ce ne sono molti altri. In Germania, a Ludwigsburg, è ancora oggi attiva quella che viene chiamata, per brevità, Commissione Z o Centrale Stel. Il nome completo sarebbe Commissione federale per l'indagine e la spiegazione dei crimini compiuti durante il periodo nazionale socialista. Effettivamente, se già è molto lungo in italiano, figuriamoci il tedesco che è una lingua che presenta parecchie parole composte. Gli stessi tedeschi la chiamano Centrale Stel, che vuol dire Commissione Centrale. Effettivamente questa Commissione Z dagli anni 50 a oggi ha truito diversi processi, ha promosso varie indagini, ma in alcuni casi come quello di Heinrich Müller non è riuscita ad arrivare a un verdetto che attesti la morte in qualsiasi caso della persona. A questo punto, passati gli anni, si potrebbe parlare di morte presunta, ma non si sa dove né quando, mentre in altri casi è riuscita a rintracciare i colpevoli e ha provato a punirli. Anna Arendt, la scrittrice di origine ebraica, all'epoca del processo ad Adolf Eichmann, scrisse quel bellissimo libro che vi invito tutti quanti a rileggere che è La banalità del male. In quel libro Anna Arendt dice chiaramente che sì, i massacratori c'erano, ma non erano dei mostri fisionomici, erano persone comuni, erano piccoli burocrati e il viso apparentemente anonimo di Adolf Eichmann dietro le sbarre a Gerusalemme lo conferma. Bene, questa teoria ancora oggi è valida e bisogna anche capire, cercare di capire cosa c'era dietro queste anime nere, dietro Borman e il suo tentativo di fuga, dietro Müller, la sua sparizione nel nulla, dietro Eichmann, dietro Josef Mengele, dietro a tutti questi personaggi che dispinsero a massacrare e poi a fuggire rifiutando le proprie responsabilità. Chi ci riuscì effettivamente, chi finì sulla forca, chi sparì nel nulla. Ancora oggi forse non abbiamo chiuso i conti con la seconda guerra mondiale, eventi di quasi 80 anni fa. Ogni tanto bisognerebbe riaprire quelle pagine di storia per capire cosa è avvenuto e rianalizzare, comprendere, contestualizzare e alla fine tracciare un bilancio anche con gli assenti, gli assenti che forse non riusciremo mai e poi mai a trovare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.